E dici io da merito in parte a Lebron, questo partito non me ne voglio bene di certo, continuava l'imperatore, ma quello che lo fece stare ancor più sul terato fu la severa dissamina onde veniva Vagliano a parte e a parte ai suoi conti presentati al governo. L'imperatore aggiunge favere in questo, profittato mirabilmente del suo consiglio di stato, dominava una commissione di quattro o cinque membri, per propria onestà meritovoli, incaricati di fargliene il rapporto a lui primo consulio, l'imperatore non aveva altro. Esso dove molti fu a procedere che poi in calci, rimandata al gran giudice per fare e seguire le leggi. Giunti a questo punto, gli implicati venivano ordinariamente a componimento e mettevano fuori uno, due, tre, quattro milioni piuttosto, di lasciarsi inquisire. Ben saperevano, l'imperatore, come simili fatti svesati nella società parigini, Gli criassero molti nemici e gli venissero, accolgando i bel titolo di despote e tirano, ma ad un sacro dovere inverso la società collettiva e non individua, la quale doveva esserli grata di tali misuri presse contro se fatti pubblici sangui sui. Gli uomini non mutano mai, dicevano Napoleone, dal faramondo in poi. I banchieri agirono sempre così e rimano furono, ugualmente trattati, ma non venero in nessun'epoca della monarchica feriti. Comodami tanto direttamente e liamente, e secondo le leggi, la stessa opinione degli uomini da fare non si ricordava quello corrente nella società parigini. I conoscenziosi e onesti trovavano sì fatta estrema, se ferità o una nuova canizia, dell'importanza della quale sì e vi provo al mio ritorno da Isola d'Alba. Casi di Londra e d'Amsterdam mi apparrono secretamente un credito d'agli 80 ai 100 milioni per i modi con interessi da sette o d'otto. Il denaro netto incasato dal tesoro di Paris ci fanno ed essi rimborsato con redditi sul grande libro a 50, mentre erano allora per il pubblico a 56 o 57. Si è fatta risorsa di tanto vantaggio nella crisi in cui si trovava il governo, tanto soddisfacente, tanto lusinghiera, per cui lui che ne era l'oggetto prova l'opinione vera dell'Europa intorno all'imperatore e la confidenza che gli ispirava. Questo spiega quello che sapeva di miracolo il suo ferchio, cioè dei mezzi finanziari. Al suo rientrare in Francia, l'imperatore godeva di speciali reputazioni nella burocrazia e presso gli addetti alle amministrazioni delle finanze e lo tenì, diceva l'imperatore, nell'esaminare un bilancio annuale durante il consulato. Mi chiari subito di un errore di due milioni e hai scappato dalla Repubblica. Dovresni, allora capo della tesoreria, come uomo, indageremo, non vi voleva dapprima prestare fede, ma in seguito ne convenne alla fredda, ma certa logica delle cifre, vi volevo fare i mesi prima di scoprirvi l'origine dell'errore, che finalmente si rinvenne in un conto del provveditore Seguin. Questi accagiolò, ingannò e restitui i due milioni. Un'altra volta Napoleone, esaminando lo stato di paga della guarigione di Parigi, appuntò un articolo di 60 e più mille lire assegnati ad un discattamento che era certo non essere mai stato nella capitale. Il ministro vi fece un'osservazione, ma solo per compiacere, e l'imperatore, convinto della sua inutilità. Ma era vero e la soma venne elevata.